Ciao a tutti, e benvenuti in questo nuovo video di Terra Amara. Oggi andiamo a scoprire insieme cosa succederà nelle prossime anticipazioni di Terra Amara, in particolare quelle che vedremo in onda dal 18 al 23 settembre. Ilmaz e Zuleyya, immaginano di vivere una vita insieme in una sontuosa villa, dopo il loro matrimonio. Ma Zuleyya vive con il figlio Adnan, in attesa del divorzio da suo marito, mentre lei la rimane con Demir e Kerem con Mujeygan. Tuttavia, il destino prende una svolta drammatica quando Ilmaz, chiamato da Nazire per un infortunio subito da Kerem, è coinvolto in un terribile incidente stradale mentre si precipita a raggiungere suo figlio. Nel frattempo, le tensioni all'interno della famiglia Yaman si intensificano. Prima di continuare, se siete curiosi di sapere cosa succederà, lasciate un mi piace ed iscrivetevi al canale, per non perdervi le prossime anticipazioni di Terra Amara, grazie a chi lo farà. Saniyai manifesta apertamente la sua antipatia per Sevda, mentre Rasit fa un gesto significativo donando un anello di fidanzamento a Fadik. Demir e Zuleyya sono testimoni dell'incidente che coinvolge Ilmaz e si affrettano a soccorrerlo, portandolo in ospedale in condizioni critiche. Nel frattempo, Fikret continua le sue indagini per scoprire il motivo che ha spinto Ilmaz a vendere le sue proprietà a Ankar, mentre continua ad essere intricate alleanze per realizzare il suo piano segreto. Inoltre, Fikret mostra un interesse crescente per Mujeygan. Nel frattempo, Batiyar, il cugino di Fikret, è pronto a iniziare il suo lavoro in ospedale, portando ulteriori complicazioni alla situazione. Sevda, con il sostegno di Demir e Zuleyya, continua a guadagnarsi un ruolo sempre più centrale nella famiglia Yaman, comportandosi come la padrona della villa. La nonnina, intanto, scambia Sevda per Asene, la sorella di Ankar morta molti anni prima, aggiungendo un elemento di mistero alla trama. Le tensioni si estendono ben oltre le mura della famiglia Yaman. Saniyai, conscia del precipitare del suo futuro, decide di sostenere Gaffur nella sua determinazione di trasferirsi in Germania alla ricerca di lavoro. Questa scelta getta un'ombra cupa sul destino dell'intera famiglia, lasciando presagire profonde trasformazioni. Nel frattempo, Fekeli continua la sua incansabile ricerca dell'assassino di Ankar. Mentre sta discutendo con Celal, incaricato delle indagini, riceve improvvisamente la notizia dell'incidente di Ilmaz. Questa notizia fa sussultare tutti, poiché Ilmaz è in lotta tra la vita e la morte. Nel frattempo, parenti e amici si precipitano in ospedale per vegliare su Ilmaz. Miracolosamente, l'uomo si risveglia e manifesta il desiderio di vedere i suoi figli, Adnan e Kerem. Alla sua presenza, Mugeigan e Zuleya finalmente mettono da parte le divergenze, ponendo l'interesse dei bambini al primo posto. La notizia che Demir ha salvato Ilmaz dall'auto in fiamme si diffonde rapidamente, guadagnando il rispetto di tutti e dimostrando che il passato conflitto tra i due è ormai alle spalle. Mentre la tenuta Yaman e la dimora di Fekeli attendono ansiosamente notizie dall'ospedale, finalmente giungono buone notizie, che portano sollievo a tutti, tranne a Beys, il cui atteggiamento rimane enigmatico. Demir visita Ilmaz in ospedale, scusandosi sinceramente per il dolore che ha inflitto negli anni passati. Ilmaz accoglie le scuse e gli chiede di prendersi cura di Zuleya e Adnan nel caso in cui lui non dovesse farcela. Fekeli tiene costantemente aggiornati i notabili di Kukurova riguardo alle condizioni di Ilmaz, ma in un gesto pubblico che segna un momento epocale, annuncia solennemente che da quel momento in poi, Demir sarà considerato come un figlio per lui. Questa dichiarazione sigilla un patto di reciproca protezione tra i due uomini, ponendo fine all'eterna faida che ha afflitto le loro famiglie. Nel frattempo, Gaffur comunica a Gulten e Cetin il suo desiderio di trasferirsi in Germania. La presenza di Sevda nella villa ha reso la situazione insopportabile, soprattutto per Saniai. Questo annuncio sembra mettere una pietra tombale sulla faida tra le due famiglie. Zuleya rimane al fianco di Ilmaz, ma improvvisamente la sua condizione peggiora. Nel suo ultimo respiro, Ilmaz confessa il suo eterno amore a Zuleya e si spegne per sempre. Zuleya, Mugeigan e Fekeli si recano all'obitorio per dare l'ultimo saluto a Ilmaz, ognuno prendendosi un momento per congedarsi da lui. Nel frattempo, prima del funerale, Beis subisce un infortunio alla caviglia che la impedisce di partecipare alla cerimonia. Questo scatena pettegolezzi tra Sermin e Fusan, che sospettano che Beis non sia presente perché prova gioia per la morte di Ilmaz. Infatti, con la sua morte, Mugeigan erediterà una considerevole fortuna. Demir decide di accompagnare Adnan alla preghiera serale in onore di Ilmaz, e Fekeli lo invita a rimanere, dichiarando che ormai lo considera come un figlio, suggellando così un legame profondo tra i due uomini. Così terminano le anticipazioni della settimana di Terra Amara. Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti. E se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace ed iscriviti al canale, per non perderti le prossime anticipazioni di Terra Amara. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!